Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catabiotrico Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico anche questa puntatona dal colore di scrittura creativa oggi parleremo delle risorse gratuite di fantascienza per aspiranti scrittori, scrittori neofiti o scrittori più o meno navigati il podcast è presto detto, se una risorsa in internet è gratuita deve essere gratis se c'è da pagare qualcosa anche poco, non è una risorsa gratuita detta questa banalità, in descrizione troverete una catasta di links di fantascienza in cui potete trovare libri, riviste di fantascienza in pdf tutte gratis in inglese, oltre a dove, diciamo, scaricare la bibbia dello scrittore di fantascienza History of Science Fiction di Adam Roberts Quindi Amazing Stories, Wonder Stories, Airwonder Stories, Science Wonder Stories If Words of Science Fiction, Galaxy Science Fiction, World Days e tantissimi altri pulp mags e cloni di pulp mags che possono essere rintracciati su tante comunità e dalle quali appunto non si può prescindere dal leggere o studiare o tradurre dall'inglese all'italiano oppure mettersi a sfogliare in modo approfondito ed attento tutto questo materiale che occorre conoscere per ragionare di senso compiuto di fantascienza Inoltre, sempre in descrizione troverete tre corsi gratuiti di scrittura creativa Sì, avete capito bene, tre corsi gratuiti Una, introduzione gratuita alla scrittura creativa Una mia breve playlist che affronta in modo sintetico tutti i temi della tecnica di scrittura creativa Poi due link relativi a corsi gratuiti di scrittura creativa Una playlist massiva di risorse gratuiti che ho raccolto in Youtube appunto sul tema da cui potrete fluire, de facto, un corso gratuito di scrittura gratuita esposto per temi Un link che vi porterà ad una selezione di temi di scrittura creativa che vi introdurranno alle tecniche della scrittura creativa C'è poi il link al mio blog dove oltre a ritrovare tutto quello che vi ho detto Troverete cataste e montagne di pdf in scienza creative commons di fantascienza Di made fiction Nonché racconti di autori blasonati tradotti in italiano E poi se non vi basta ancora tutto questo è serie tv di fantascienza Film di fantascienza in inglese, in italiano, in francese, in streaming gratuito E tantissimo altro Ecco Vi ho detto tutto Ciao, alla prossima